Asquale, un saluto da te i nostri spettatori. A proposito di Halloween, mia moglie è nata il 31 ottobre. Devo preoccuparmi? Gli facciamo gli auguri, naturalmente. Signora, tanti auguri! Insomma, come dire... Metti da parte la scopa per un attimo. Ok, io direi di iniziare con il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, beh, devo dire che questa è una giornata in cui accuserete molto la fatica di questi ultimi giorni perché sul lavoro state dando tanto, ma state trovando anche molti ostacoli ed è sempre più complicato superarli. È una luna che transita in un settore che per voi ha a che fare anche con i nemici, con le persone che non vi dicono tutta la verità. Lì dovete stare davvero molto attenti. Per fortuna l'amore è sempre al vostro fianco. È un oasi felice in questo momento l'amore. riesce a tirarvi fuori dai problemi più grossi. Non fosse altro perché vi restituisce serenità e anche una certa lucidità mentale. Andiamo al segno del toro. Per voi amici del toro...